Ragazzi se anche voi ci resta anche di giocare con i bagagli o vi serve uno credito o FIFA Points per spacchettare il mio sito in descrizione è quello che fa per voi Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi sono qui a portarvi un video su come acquistare FIFA 16 al prezzo minore che c'è attualmente sul mercato ovvero il prezzo più conveniente, più sicuro e veramente il top ragazzi vi sto portando questo video perché molti me lo avete chiesto per messaggio privato dove voi acquistare FIFA 16 al prezzo più basso per la mia console, versione deluxe, versione standard eccetera eccetera io personalmente lo acquisterò sul sito che vi sto per mostrare ragazzi se vorreste acquistarlo su quel sito fatemi un favore c'è il link del sito qui sta in descrizione utilizzate quel link per l'acquisto allora il sito in questione lo conoscerete tutti è Amazon Amazon Italia sito che conoscono tutti di caratura mondiale importantissimo una sicurezza, una garanzia sia a livello dei prezzi, sia a livello dell'aspidizione, sia a livello del prodotto veramente il massimo secondo me è anche meglio del GameStop una cosa non si prendono indietro in giochi per fare la permuta diciamo per far riscontrare dal prezzo del nuovo gioco che tu acquisti ma hanno il servizio soddisfatto e rimborsato nel senso hai 30 giorni di tempo se non ti piace il gioco per mandarlo indietro senza ulteriori spese da parte tua quindi è una cosa veramente fantastica su Amazon il gioco per console next gen ovvero PS4 e Xbox One costa già 64€ ovvero circa 5€ in meno rispetto al GameStop invece per le console old gen ovvero PC, Playstation 3 e Xbox 360 il prezzo è già 15€ in meno quindi un grandissimo sconto e la cosa bella è che se voi lo prenotate ora dal link che vi do sotto in descrizione oppure su Amazon direttamente praticamente da ora a quando uscirà il gioco ovvero il 24 settembre voi non pagherete subito ma pagherete solamente quando uscirà il gioco ovvero il 24 settembre e non pagherete il prezzo di quando cliccate prenota ora ma il prezzo più basso che c'è stato da quando avete premuto prenota ora a quando uscirà il gioco quindi magari il prezzo un giorno scende a 40€ per PS4 mettiamo e voi il gioco lo pagate 40€ questa è una grandissima cosa che offre soltanto Amazon beh ragazzi il video è stato molto veloce finisce qui ma secondo me è stato un video che può tornare a votare a molti di voi se vi può tornare a votare lasciate un bel like un commento qui sotto col vostro parere e ragazzi un'altra piccola novità qui sotto in descrizione ci stanno dei nuovi link ovvero quello per acquistare i giochi del PC per acquistare carte Xbox Live e abbonamenti Xbox Live e idem per il PSN abbonamenti e carte per il PSN carte revagate quindi ragazzi il video finisce qui ciao a tutti ciao a tutti